In bicicletta per fare acquisti, andare a lavoro, a scuola o semplicemente per fare passeggiate ed escursioni, promuovere la mobilità sostenibile e favorire il rilancio del commercio di prossimità a Salerno. E su questo binario che è stato stipulato questa mattina un protocollo di intesa tra l'Associazione Nazionale dei Centri Storici di Salerno, Confesercenti Salerno e FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Salerno. Tutti in sella per una ciclopasseggiata che si è svolta lungo il percorso ciclabile del circuito del mare, dalla zona orientale della città fino al centro, lungo un percorso con soste anche presso alcuni esercizi commerciali che hanno già adottato iniziative per favorire l'uso della bicicletta fino a giungere in piazza Portanova dove c'è stata la sigla del protocollo che nasce da una riflessione comune sull'opportunità di implementare ed incentivare nuovi modelli di sviluppo sostenibile e quindi di favorire la ripresa e il rilancio degli scambi commerciali in città e nel centro storico. Noi siamo qui per chiedere all'amministrazione di Salerno insieme a Confesercenti una città che abbia un approccio diverso alla mobilità, chiaramente in primis la bicicletta ma anche rivedere in totale gli spazi pubblici. Ecco le esigenze di noi cittadini ambientalisti con quella del commercio che spesso è in crisi proprio per problematiche relative al traffico oggi si ricongiungono.